Dite la verità. Nel vostro stesso interesse esortò il presidente l'imputato. Eccellenza, dico la verità, riprese Tararà, questa volta con tutte e due le mani sul petto. La verità è questa, che era come se io non lo sapessi. Perché la cosa, sì, eccellenza, mi rivolgo ai signori giurati, perché la cosa, signori giurati, era tacita. E nessuno, dunque, poteva venirmi a sostenere in faccia che io la sapevo. Io parlo così perché abito in campagna, signori giurati. Che può sapere un povero uomo che butta sangue in campagna dalla mattina del lunedì alla sera del sabato? Sono disgrazie che possono capitare a tutti. Certo, se in campagna qualcuno fosse venuto a dirmi, Tararà, bada, che tua moglie se l'intende col cavalier Fiorica, io non ne avrei potuto fare di meno e sarei corso a casa con l'accetta a spaccarle la testa. Ma nessuno era mai venuto a dirmelo, signor presidente. E io, a ogni buon fine, se mi capitava qualche volta di dover ritornare al paese in mezzo della settimana, mandavo avanti qualcuno per avvertirne mia moglie. Questo per far vedere a vostra eccellenza che la mia intenzione era di non fare danno. L'uomo è uomo, eccellenza, e le donne sono donne. Certo, l'uomo deve considerare la donna, che l'ha nel sangue di essere traditora, anche senza il caso che resti sola. Voglio dire col marito assente tutta la settimana. Ma la donna, da parte sua, deve considerare l'uomo e capire che l'uomo non può farsi beccare la faccia dalla gente. Eccellenza, certe ingiurie, sì, eccellenza, mi rivolgo ai signori giurati. Certe ingiurie, signori giurati, altro che beccare, tagliano la faccia all'uomo. E l'uomo non le può sopportare. Ora io, padroni miei, sono sicuro che quella disgraziata avrebbe avuto sempre per me questa considerazione. E tant'è vero che io non le avevo mai torto un capello. Tutto il vicinato può venire a testimoniare. Che c'ho da fare io, signori giurati? Se poi quella benedetta signora all'improvviso... Ecco, signor presidente, vostra eccellenza dovrebbe farla venire qua questa signora, di fronte a me, che saprei parlarci io. Non c'è peggio, mi rivolgo a voi, signori giurati, non c'è peggio delle donne cimentose. Se suo marito, direi a questa signora, avendola davanti, se suo marito si fosse messo con una zitella, vossignoria si poteva prendere il gusto di fare questo scandalo, che non avrebbe portato nessuna conseguenza. Perché non ci sarebbe stato un marito di mezzo. Ma con quale diritto, vossignoria, è venuta a inquietare me, che mi sono stato sempre quieto, che non c'entravo né punto né poco, che non avevo voluto mai né vedere né sentire nulla. Quieto, signori giurati, ad affannarmi il pane in campagna, con la zappa in mano dalla mattina alla sera. Vossignoria, scherza. Le direi se l'avessi qua davanti questa signora. Che cosa è stato lo scandalo per vossignoria? Niente, uno scherzo. Dopo due giorni ha rifatto pace col marito. Ma non ha pensato, vossignoria, che c'era un altro uomo di mezzo e che quest'uomo non poteva lasciarsi beccare la faccia dal prossimo e che doveva fare l'uomo. Se vossignoria fosse venuta da me prima ad avvertirmi, io le avrei detto «Lasci andare, signorina. Uomini siamo, e l'uomo, si sa, è cacciatore. Può aversi male, vossignoria, di una sporca contadina. Il cavaliere con lei mangia sempre pane fino, francese. Lo compatisca se di tanto in tanto gli fa gola un tozzo di pane di casa, nero e duro». Così le avrei detto, signor presidente. E forse non sarebbe accaduto nulla di quello che, purtroppo, non per colpa mia, ma per colpa di questa benedetta signora, è accaduto. Il presidente troncò con una nuova e più lunga scampanellata i commenti, le risa, le svariate esclamazioni che seguirono per tutta l'aula la confessione fervorosa di Tararà. «Questa dunque è la vostra tesi?» domandò poi all'imputato. Tararà, stanco, anelante, negò col capo. «No, signore! Che tesi! Questa è la verità, signor presidente!» E in grazia della verità, così candidamente confessata, Tararà fu condannato a tredici anni di reclusione.